ciao amici allora io sono luca lo speaker ufficiale del giro e che quest'anno passerà dalla calabria passerà da soveria mannelli e ne siamo felicissimi il giro è anche un modo per scoprire tutte le realtà locali che veramente l'italia ne è piena quindi possiamo girare ne raccontavo proprio prima che possiamo girare e scoprire tutte queste realtà meravigliose mi raccomando preparate una grande festa per il passaggio del giro e per la partenza del giro e perché noi saremo lì con voi e cercheremo di raccontarvi quello che è veramente una cosa meravigliosa pensate che il giro e 20 20 quest'anno seconda edizione ufficiale ricopre totalmente le tappe del giro d'italia solo partendo un pochino più avanti quindi ha la stessa città di arrivo ma una città di partenza dedicata e sarà questa la nostra forza quindi amici calabresi io vi aspetto per la vostra partenza ciao grazie a tutti